Il professore Pasquino è un volto noto, non solo televisivo, ma è un eminente figura del nostro paese. Il professore emerito di scienza politica nell'Università di Bologna e dal 2005 socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. La sua carriera universitaria l'ha portato ad insegnare anche nell'Università di Firenze, Harvard, California, Los Angeles. È stato visiting professor in varie università del mondo. Ha diretto dall'80 all'84 la rivista Il Mulino, dal 2001 al 2003 la rivista italiana di scienza politica. Mi dice che non posso leggere tutto, è evidente, non posso non ricordare il professore che è stato senatore della Repubblica dall'83 al 92 e dal 94 al 96. Non posso non ricordare il professore e qua diventa anche difficile, perché poi trema la voce nel presentare una figura che ha ricevuto quattro lauree ad honorem. Dall'Università di Buenos Aires nel 96, della Plata nel 2001, dell'Università Cattolica di Córdoba nel 2011, dall'Università Autonoma dello Stato di Hidalgo, Messico, nel 2018. Vado velocissimo, ricordo soltanto nella sterminata bibliografia alcuni dei suoi testi, alla ricerca dello scetro perduto, democrazia, sovranità, riforme, le parole della politica, la rivoluzione promessa, lettura della Costituzione italiana, partiti, istituzioni, democrazie, Bobbio e Sartori, capire e cambiare la politica, minima politica, sei lezioni di democrazia, libertà inutile e poi, come ultimo, ma non ultimo, tra scienza e politica, una autobiografia. Bene, grazie a tutti di essere qua e cedo subito la parola al professor Pasquino. Grazie molto, professore. La ragione per la quale sto seduto è che non reggo 50 minuti in piedi e quindi è meglio che mi segga subito invece che scivolare, crollare dopo. La seconda cosa che voglio dire è che vi ringrazio dell'applauso che avete fatto all'inizio. A me non piace granché il culto della personalità, ma se della mia personalità va abbastanza bene, entro certi limiti, naturalmente. La terza è che questa è una sfida, nel senso che parlare di coraggio in politica è comunque qualche cosa di complicato. Scegliere gli esempi, come vedrete, è stato anche abbastanza complicato. Di solito chi pensa alla politica non pensa al coraggio, pensa ad altre cose e quindi bisogna in qualche modo anche tenere conto del pensiero degli altri, capire che tipo di compito si attribuisce alla politica e ai politici. E sapete che c'è una storia lunghissima di critica dei politici e di recente anche della politica, che però deve essere valutata, misurata, meglio compresa. Ci sono tutta una serie di aspetti importantissimi. Abitualmente comincio sottolineando l'elemento che mi pare cruciale, che politica in italiano è la politica, ma politica è il titolo del libro di Aristotele dal quale praticamente tutto questo comincia, in greco è ta politika, che sono tutte le cose che avvengono nella polis. E cioè Aristotele aveva una concezione molto ampia di politica e queste cose che avvengono nella polis erano i rapporti fra persone. E penso che, di nuovo anche qui, il mio mantra abitualmente si riferisce a cosa facevano i greci, quei greci che poi non sono la democrazia come la conosciamo oggi, quei greci che camminavano per le strade di Atene prendendo sotto braccio Socrate, chiacchierando con Platone, parlando naturalmente anche con Aristotele, e imparando molte cose, scambiandosi idee, perché lì non c'era l'imposizione di una verità, ma era un dialogo continuo, soprattutto teorizzato da Socrate, la maiautica, far uscire la verità attraverso il dialogo tra persone. Il coraggio però è subito apparso lì in Grecia, quando pensiamo a qualsiasi tipo di fenomeno politico, troviamo un riferimento specifico alla Grecia, e il coraggio è quello di Socrate, quando gli si dice che se in qualche modo si limita ad abbiurare non c'è problema, ma lui dice ho violato la legge e quindi è giusto che prenda la cicuta, cioè l'accettazione di una disobbedienza civile fino in fondo con il sacrificio della vita. Non so quanto posso scherzare, ma se mi consentite, se uno ha come moglie Santipe, e forse a un certo punto può anche decidere che si suicida, però questa è la motivazione principale di Socrate. Il secondo elemento è che questi greci erano della stessa, qui uso dei termini anacronistici, della stessa classe sociale. C'erano uomini, uomini bianchi, leggermente abbronzati, perché andavano in barca nel Pireo, tornavano nel pomeriggio, avevano evidentemente le ancelle che pensavano a vestirli in maniera molto elegante, a profumarli, a ungerli variamente, e poi si trovavano sul Partenone a decidere. Sottolineo l'elemento decidere, perché molto spesso qualcuno pensa che la politica in Grecia non contemplasse decisioni, che questi accordi fra persone fossero sufficienti, cioè che qualcuno istruiva una pratica e poi chiedeva siamo d'accordo, e di solito c'era un accordo abbastanza diffuso. Attenzione, questo è un passeggio rilevante, perché l'accordo era sì abbastanza diffuso regolarmente, tranne che non era mai all'unanimità. C'era sempre qualcuno che diceva ma si poteva fare meglio, si poteva istruire meglio questa decisione, si poteva discutere meglio di quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto male, e poi c'era un momento in cui si votava. Si votava contro coloro che avevano attentato alle libertà dei greci, il famoso processo dell'ostracismo, ostracos, un ciotolo, se vincevano i ciotoli neri la persona era costretta ad andare in esilio per un certo numero di mesi, qualche volta per qualche anno, perché aveva cercato di sovvertire le libertà. E qui il coraggio naturalmente si trovava nel fatto di decidere di spingere qualcuno ad andarsene se toccava la libertà della polis e la libertà dei cittadini. Per un po' di tempo di coraggio non si parla più e quando il coraggio riemerge, oserei dire che sta ricomparendo la politica. Perché scompare la politica incendialmente? Perché la religione prende il sopravvento, con Costantino la religione prende il sopravvento e a quel punto non c'è problema di politica, perché le decisioni vengono prese con riferimento ai testi sacri. E la sfida dei testi sacri, certo, qualche volta richiede coraggio, potrei parlare di Giordano Bruno naturalmente, però salto questa parte e arrivo a Machiavelli. Perché Machiavelli, che come sapete viene spesso citato come l'eminenza più importante anche della scienza politica e la è, ma qualche volta e in alcuni contesti quasi sempre viene criticato proprio per il suo machiavellismo, per la frase che in realtà non ha mai detto, che qualsiasi mezzo va bene per perseguire i fini. Machiavelli non ha mai detto questo. E comunque il fine che Machiavelli vuole perseguire è il fine della creazione di una città ben governata dal principe. Al principe dice come bisogna governare quella città, certo, qualche volta in maniera molto dura, molto sprezzante, però sempre con il coraggio delle proprie idee. E qui comincio con il coraggio. Avere il coraggio delle proprie idee, cioè non nascondersi dietro frasi un po' mielate, mielose, detto frasi che non siano compromettenti. Machiavelli è molto netto in tutta una serie di passaggi e dice al principe che lui stesso deve essere molto netto. Il principe di Machiavelli non è qualcuno che fa compromessi, ma è qualcuno che prende decisioni importanti con l'obiettivo di costruire una situazione, chiamiamolo così, una città-stato ben governata. Questo è il primo degli obiettivi di cui tenere conto. Cioè i coraggiosi sono quei leader che cercano non tanto di fare carriera, anche se questo è importante, come vedremo, e qui vado contro l'opinione comune, quando i politici vi dicono che sono al vostro servizio non credete a questa frase perché è comunque sbagliata. Il politico non deve essere mai al servizio di nessuno, tra lecche di certi ideali, di una visione complessiva della società e della vita, per così dire, che vi propone, ma sapendo naturalmente che voi potreste avere un'altra e che quindi il politico di nuovo, l'altra frase che non deve dire vi ascolto, il politico deve interloquire con voi, lui dice delle cose probabilmente credendoci, sperabilmente credendoci, e voi dovreste essere in grado di chiedere approfondimenti, di chiedere conto di alcune eventuali contraddizioni, di chiedere come quelle cose le tradurrà in scelte concrete e che tipo di impatto quelle scelte avranno sulla vostra vita, perché questo è il passaggio cruciale. Qui c'è il coraggio del politico quindi anche di andare contro quello che sento da voi convinto di saperne di più, convinto cioè che quello che vi ha detto e quello che farà è preferibile rispetto a quello che voi pensate e a quello che voi credete che lui dovrebbe fare. In Machiavelli il Principe è questo, c'è lui che riesce a non tenere conto delle opinioni dei suoi subordinati, dirò così perché non siamo ancora di fronte ai cittadini, alle opinioni che girano nella città ma che ha una visione, la visione per l'appunto di fare di quella città una città che riesce a governarsi in maniera efficiente, che riesce ad essere sufficientemente forte da difendersi da chi l'attacca, da chi dall'esterno cerca di sovvertirne le istituzioni, una città che riesce a destinare le sue risorse a crescere, questo è il Principe. Passaggi successivi che sono costretto a saltare, anche perché vi dirò che avendo fatto anche qualche lettura, perché è vero che sono tantissime cose ma ci sono sempre delle cose che possono imparare, avendo fatto delle letture ho scoperto che ci sono dei buchi spesso nella storia in fasi nelle quali non c'è bisogno di coraggio perché c'è una situazione sufficientemente stabile, sufficientemente controllata da coloro che è un dettentore del potere e non ci sono sfidanti. E quindi gli sfidanti veri appaiono in situazioni di complessità, in situazioni che chiamo ma convinto che dovrei trovare una parola migliore, in situazioni di crisi, quando c'è qualcosa che si è rotto, crisi di rottura in greco, qualcosa che si è rotto e che è difficile rimetterlo insieme. Però il coraggio non è soltanto qualcosa che qualcuno ha al suo interno, qui naturalmente ricordiamo tutti Don Abbondio che il coraggio non si può dare, se uno non ce l'ha non lo si può dare, non se lo può dare, non è del tutto corretto. Uno può non avere il coraggio ma può scoprirlo di fronte ad una determinata sfida. E quindi ho deciso che andavo alla ricerca delle sfide, quali sono le sfide e quali sono le persone coraggiose, i politici coraggiosi. Qui il primo passaggio è spesso parlo con altre persone, come ho fatto prima in maniera brutale, chiedo che cosa pensano, faccio domande abbastanza preoccupanti e quindi ho fatto un sondaggio, un mini sondaggio casuale, il mio vicino sul treno. Se le chiedo chi è stato un uomo coraggioso in politica che cosa mi risponde. C'è stata una notevole convergenza, 40-50 persone, una notevole convergenza su un nome specifico e immagino che come lo dirò tu, anzi non lo dirò, ditemi un uomo coraggio, questo è un uomo, però attenzione ci sono anche delle donne coraggiose e non lo faccio soltanto per mantenere la parità di genere. ho sentito Pertini, De Gasperi, Aldo Moro, no, incidentalmente nessuno dei miei 50 intervistati variamente ha detto questo, siete troppo schiacciati sull'Italia in questo caso. Churchill, Churchill veniva fuori ma non è quello più coraggioso. Kennedy, Kennedy appare, le spiegherò in che modo appare. Mandela, Mandela è quello che ha avuto il maggior numero di consensi, Mandela è stato effettivamente coraggioso. Quella cosa interessante è che Mandela viene considerato coraggioso perché va esattamente contro le aspettative di tutta la comunità dei neri quando viene liberato. I neri si aspettano di conquistare il potere e quindi di punire i bianchi, dirò entrambe le aspettative molto legittime. Mandela no, ha scelto un'altra strada con grande coraggio e rischiando cosa? In questo caso rischiando non la carriera, ma rischiando la sua popolarità, rischiando tutto quello che aveva accumulato nel corso della sua detenzione lunghissima, 27 anni in carcere e quindi rischiando tutto il prestigio che aveva accumulato. Mandela è l'uomo coraggioso per eccellenza, quello che rischia tutto in nome di un bene superiore al suo prestigio personale, al suo posto nella storia che comunque aveva in parte già conquistato, lo rischia perché vuole fare del Sud Africa un paese decente, un paese nel quale i neri e i bianchi possono vivere insieme, naturalmente i neri sono una maggioranza strabordante, quindi conquisteranno il potere politico, ma non lo devono usare per punire i bianchi. Cioè Mandela è l'esempio tipico, di nuovo tipico non va bene, è l'esempio più illustre di che cosa vuol dire il coraggio, rischiare qualche cosa di sé per riuscire a produrre una situazione complessivamente molto migliore di qualsiasi altra che era prevedibile. Chiunque si ricordasse, e qualcuno di voi certamente si ricorda, che cosa pensavano gli occidentali che sarebbe successo, la parola più frequente che si trovava sui giornali era un bagno di sangue e infatti gli inglesi temevano esattamente questo esito. Dice Mandela, esce di carcere e non riesce a controllare, non che lui guidasse una sommossa contro i bianchi, ma non riesce a controllare i neri e quindi dobbiamo cercare di evitare che succeda questo. Mandela senza bisogno di nessun aiuto e di nessun consiglio da solo produce tutto questo. Mandela è l'esempio tipico. Sono andato lì e poi non ho seguito quasi nessuno dei suggerimenti che mi avete dato perché mi sono soffermato, qualche volta ho dei momenti di perplessità, perché può sembrare, come dire, legata alla congiuntura, al momento in cui noi ci troviamo, però all'inizio del secolo scorso ci sono stati degli uomini molto coraggiosi, che erano gli antifascisti e però con nome e cognome. Piero Gobetti, che viene picchiato a morte selvaggiamente dai fascisti a Torino e muore a Parigi. Giovanni Amendola, liberale, che ugualmente viene picchiato dai fascisti e muore. Giacomo Matteotti, che in questi giorni fondamentalmente si trova il cadavere cento anni fa perché aveva obiettato alle elezioni fasciste fatte con la legge acerbo, dicendo sono state truccate, sono elezioni illegali che devono essere rifatte e combattute. E naturalmente in coda a tutto questo i fratelli Rosselli, che ugualmente erano antifascisti, che vengono uccisi in Francia dalla destra francese, naturalmente sul suggerimento della polizia segreta fascista italiana. E infine Antonio Gramsci, che muore un paio di mesi dopo e è stato liberato, era stato in cassa dal 26 al 37. Questi sono esempi di coraggio, perché sanno che non possono vincere, questo è l'elemento importante, però sanno anche che devono testimoniare che c'è qualcosa di diverso, che c'è una vita migliore, che c'è una politica migliore, c'è qualcosa che bisogna fare, che bisogna fare insieme, che c'è una visione di città, di società, di politica, di sistema politico molto diverso e che per questo vale la pena di vivere. Qui aggiungo il punto di vivere e di morire. Qui aggiungo il punto rilevante, secondo punto, ed è la consapevolezza. Il coraggio non è avventatezza, non è qualcosa di, come dire, di una reazione più o meno brillante a determinato momento, no, è qualcosa di consapevole. Ci opponiamo sapendo che rischiamo, che rischiamo attenzione, non solo e non tanto la carriera politica, ma che rischiamo la vita. C'è questo elemento cruciale di mettere in gioco la propria vita, di nuovo, non solo per se stessi, ma per una certa idea, in questo caso per una certa idea, se volete, di democrazia nel caso italiano, una certa idea d'Italia che accetta il dissenso, che accetta il confronto e non invece l'imposizione dall'alto. La consapevolezza è un elemento importante del coraggio. Gli uomini coraggiosi, e tra un po' vedremo anche le donne coraggiose, hanno questa consapevolezza. Quindi un obiettivo collettivo che riguarda tutti, più la consapevolezza che per conseguire quell'obiettivo qualche volta è necessario rischiare la vita. Lo dirò così, che è necessario sapere che si rischia la vita e quindi farlo consapevolmente. Gli antifascisti meritano tutto questo, non tanto perché siamo in un periodo nel quale forse vengono, come dire, non particolarmente ben ricordati. Non posso entrare in questo perché c'è una confusione storica di proporzioni gigantesche e in realtà dovrebbero essere ricordati da tutti, perché questi sono uomini coraggiosi che riguardano una nazione e non solo quella parte politica, riguardano una visione di democrazia e non soltanto una parte che in fondo era la democrazia liberale. Questi sono tutti liberali con l'eccezione di Antonio Gramsci, tutti gli altri sono dei liberali veri, liberali nel senso che hanno a cuore la libertà, hanno a cuore i diritti, il diritto di voto, hanno il diritto di organizzazione, il diritto di associazione, cioè hanno a cuore quelle che sono i valori liberali fondanti, senza i quali non si costruisce nessuna democrazia. Ma è la visione complessiva che conta, questo è importante e che quindi vale allora, valeva allora così come può continuare a valere adesso. Poi sono uscito dall'Italia, per uscire dall'Italia ho pensato a trovare dei coraggiosi sotto il regime nazista, che invece era riuscito a schiacciare tutto. Probabilmente voi avete sentito, ho letto la frase famosa di un pastore, Bonhoeffer, che diceva che prima hanno arrestato i comunisti, io non ero comunista, non ho protestato, poi hanno arrestato i socialisti, io non ero socialista, non ho protestato, poi hanno arrestato i liberali, io non ero liberale, non ho protestato, poi hanno arrestato gli ebrei, io sono cattolico, non ho protestato e quando hanno arrestato a me non c'era più nessuno che potesse protestare. Ecco, questo collegamento che è il collegamento, del riconoscimento del pluralismo di posizioni, in questo caso posizioni politiche e religiose ma il collegamento di una società che era articolata, la Germania della Repubblica di Weimar era una società di altissimo associatorismo molto, come dire dinamica, molto vivace eppure c'è stata una depressione così violenta e faccio fatica a trovare uomini di coraggio, Bonhoeffer certamente era uno di questi poi i due coraggiosi sono alla fine un nobile, von Stauffenberg che cerca di attentare alla vita di Hitler il 20 luglio del 1944 e solo per un banale spostamento della scrivania in legno massiccio la bomba non uccide Hitler e poi i due fratelli del gruppo della Rosa Bianca di Monaco però sono due casi sostanzialmente isolati questo non è una condanna del popolo tedesco, ma è semplicemente il riconoscimento che il nazismo fu tremendo, fu capace di controllare tutto fu effettivamente un regime totalitario repressivo nel quale era persino difficile esprimere il coraggio perché non c'era lo spazio neanche iniziare per farsi vedere come coraggiosi per raggiungere un minimo di visibilità perché questo è naturalmente importante per mettere in gioco il proprio prestigio a scopo di convincere altri che ci si poteva opporre al nazismo praticamente non c'era nessuno spazio poi mi sono chiesto che cosa succede quando si esce da questi regimi vi faccio grazie per così dire ma naturalmente non mi rifiuterò nel suo modo di rispondere alle domande del coraggio in Unione Sovietica perché siamo in un altro sistema di tipo totalitario e non affronto neanche il caso del coraggio in Cina tranne suggerirvi di leggere un libro un libro che si intitola I Cini credo I Cini credo così è la storia di tre donne cinesi che si oppongono al regime comunista è una storia bellissima scritta dalla terza e quindi c'è la nonna la mamma e la figlia scritta dalla terza e che spiega che cosa vuol dire essere dissidenti nel regime cinese quanto coraggio necessario e l'aspetto importante naturalmente è che siamo di fronte a tre donne e da tre generazioni diverse e quindi raccontano tre tipi diversi di repressione della difficoltà di esprimersi in pubblico e delle immediate reazioni del regime cinese prendo invece la contemporaneità perché qualcuno potrebbe dire il coraggio può essere manifestato in situazioni eccezionali in quelle situazioni possiamo essere trascinati dalla passione dall'impido e così via ma in situazioni normali quanto vale il coraggio e quindi come può essere espresso come può fare la sua comparsa il coraggio e qui ho cercato Churchill Churchill è un caso interessante ma in realtà quello è come posso dire è la rappresentazione del coraggio degli inglesi direi così Churchill è soltanto la punta dell'iceberg di un popolo coraggioso nel suo insieme del popolo che sa che cosa rischia e sapendo che rischia la sottomissione rischia naturalmente la vita reagisce appoggiando il leader che li chiama a questa resistenza quindi Churchill lo riconosco come viraggioso non sono disposto a seguire tutti quelli coloro tutti coloro che mi ricorderanno che Churchill era un maschilista che Churchill era un in qualche modo un razzista e che Churchill era un tremendo conservatore un grande aristocratico e così via c'è anche questo naturalmente però il coraggio c'è in Churchill il coraggio di guidare la sua nazione quindi una certa idea di posso dirlo una certa idea di patria una certa idea di patria anche qui è curioso perché in inglese patria può essere sia maschile che femminile curiosamente ed è naturalmente un termine che viene usato non molto frequentemente cioè nel caso dell'Inghilterra la sovranità non si esprime con il riferimento alla patria ma il riferimento al parlamento e nel caso degli Stati Uniti la patria non appare ma c'è il popolo c'è questo elemento sottilmente populista nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti Churchill va abbastanza bene ma non è il migliore degli esempi qualcuno ma non ne sono sicuro ha suggerito due gol no ve lo suggerisco io anche se anche perché è un contemporaneo di Churchill e i loro dialoghi che sono rari sono interessantissimi perché si tratta dei due uomini che hanno un ego spropositato perché la Francia come sapete secondo De Gaulle non era concepibile senza la grandeur e naturalmente gli inglesi pensavano che la Francia nel frattempo era stata sconfitta e quindi non era poi così grande e perché aveva bisogno della Gran Bretagna per ritornare quello che poteva essere e quelli sono dei dialoghi degli scambi di espressioni che sono interessantissimi però De Gaulle è un uomo coraggioso nel senso che è quello che riprende nelle sue mani la dignità della Francia quando la Francia è diventata sostanzialmente uno stato vassale uno stato fantoccio del nazismo De Gaulle chiama i francesi alla riscossa in centralmente era il 18 giugno del 1940 pochi giorni fa in cui De Gaulle dice che la Francia può in realtà combattere contro tutti e contro tutto perché nessuno pensava che sarebbe stato possibile poi combattere i nazisti in Francia invece la resistenza francese è dopo la resistenza italiana la più importante resistenza in Europa è fatta anche qui da uomini molto coraggiosi e anche da donne molto coraggiosi e questo è molto importante che mettono la loro vita a disposizione del generale che nel frattempo sta a Londra ma che appena può torna in Francia non è comunque il mio esempio migliore gli esempi migliori sono andati a cercarli altrove e li ho trovati qui senza nessuna concezione alle donne neanche alla professoressa non concedo niente ma probabilmente se ve lo dico voi dovreste rispondere ah sì è vero la signora ha un San Suu Kyi da Birmania quello è un esempio di straordinario coraggio e l'altro esempio di coraggio è dimenticato e questo secondo me è molto grave è Benazir Bhutto Pakistan perché ho preso questi come i due esempi più importanti perché non sono i loro uomini che in qualche modo si oppongono a due regimi fortemente repressivi la Birmania e Myanmar è dal 1962 fondamentalmente un regime militare l'organizzazione militare controlla il potere politico controlla il potere sociale controlla il potere economico per questo è difficilissimo come dire mandarla via perché gli ufficiali non perderebbero soltanto il prestigio di essere l'ambasciatore di essere il ministro ma perderebbero un sacco di soldi con i quali naturalmente vivono vite che sono totalmente diverse da quelle dei cittadini romani come si manifesta il coraggio della signora Nussan Suu Kyi si manifesta con una sfida continua sapendo che ad ogni passaggio può essere uccisa può essere incarcerata e infatti è stata in carcere e attualmente è agli arresti domiciliari ma si dimostra nel momento in cui deve scegliere deve scegliere tra il privato e il pubblico quando il marito che era un inglese fra l'altro io ho delle debolezze estreme su un punto quando sento parlare l'inglese splendidamente rimango affascinato la signora Nussan ci parla un inglese di Oxford che è splendido il marito era professore Oxford sta morendo di cancro e i militari birbani dicono può andare a Oxford se vuole ma se va non tornerà più in Birmania e lei decide di non andare decide di rimanere a combattere e il marito muore i figli tornano sono con lei e non possono più uscire dalla situazione e la signora Nussan Suu Kyi combatte una battaglia in favore della libertà della Birmania della libertà dei birmani a costo della sua vita personale a costo di qualsiasi prospettiva di crescere fuori dal paese i suoi figli i quali invece hanno deciso ugualmente di rimanere con lei secondo me questo è un esempio di coraggio in politica straordinario il più elevato fra quelli che ho individuato l'altro caso è il caso di Benazir Butto a lì Butto il padre era stato anche primo ministro del Pakistan primo ministro democratico democraticamente eletto in questi paesi c'è abitualmente un altissimo livello di corruzione il Pakistan è un paese straordinariamente corrotto l'Aribut probabilmente ha accettato una parte di corruzione per conquistare il potere politico viene naturalmente ucciso dai militari perché appena ha il potere politico comincia a purgare i militari dalle loro fazioni corrotte ha una visione di Pakistan diciamo così laico e quindi neanche sottoposto alle liti religiose musulmane una visione tutto sommato di parità di genere una visione di progresso a ributto in un paese occidentale probabilmente sarebbe stato un socialdemocratico moderato viene ucciso e la figlia reagisce entrando in politica sta per scaparmi la frase scendendo in politica entrando in politica entra consapevolmente in politica perché i militari avvertono che la vita sarà durissima se lei entra in politica e crea un'associazione e vince le elezioni perché naturalmente una parte della popolazione pakistana è perfettamente consapevole che la sua triste situazione è dovuta alla corruzione dei militari e di alcune elite anche religiose vi ricordo che il Pakistan è uno dei paesi che da il maggior numero di terroristi a Al-Qaeda e quindi che ha anche un certo tipo di atteggiamento sulla scena internazionale abbastanza riprovevole vince le elezioni dura poco perché naturalmente c'è una subito una reazione dura poco e viene fondamentalmente inviata in esilio rimane in esilio qualche anno tre o quattro anni e poi decidi di tornare decidi di tornare qui chi leggesse i giornali del tempo sto parlando del 2007 troverebbe che ci sono tutta una serie di avvertimenti naturalmente in queste cose la stampa inglese è importante perché l'Inghilterra aveva avuto una sua presenza diciamo coloniale anche in Pakistan che era un pezzo dell'India e quindi ci sono racconti molto intensi molto frequenti sui rischi di un eventuale ritorno quindi il Benazir Bhutto sa che se torna i militari non gradiranno il suo ritorno eppure torna e naturalmente viene uccisa praticamente nel tragitto dall'aeroporto alla casa di famiglia e anche questo è un caso secondo me importantissimo di coraggio in politica cioè sapere che si rischia molto però il messaggio è attenzione bisogna sfidarli i militari bisogna correre i rischi per sfidare i militari perché senza cambiare la struttura militare del paese non si avrà mai nessun tipo non tanto di democrazia anche se questo si può discutere naturalmente ma nessun tipo di vita decente questo è l'altro caso secondo me straordinario di coraggio in politica coraggio evidente perché c'è la consapevolezza che il rischio è molto grande e nonostante c'è come posso dire la chiamata fatemi dire così la vocazione al ritorno per testimoniare questa visione diversa di vita e non soltanto di politica ma di vita non potete continuare a vivere sotto posto ai militari la vita vostra e dei vostri figli sarà sempre di bassissima qualità se non riuscite a sfidare il regime militare quindi fatemi fare una brevissima digressione buona parte di coloro che sono morti nell'ultimo incidente di immigrazione nel mare greco venivano esattamente dal Pakistan cioè sono immigrati questi sono immigrati economici non lo so se lasciano un paese autoritario che li punisce che quindi impedisce loro anche di vivere perché non possono avere i lavori giusti quelli per i quali hanno studiato e così via questa non è già più una immigrazione economica secondo me questa è un'immigrazione politica che quindi va nella Costituzione italiana sotto il diritto d'asilo noi a queste persone dovremmo sempre concedere il diritto d'asilo grazie per l'applauso che naturalmente giro alla Costituzione italiana e a quegli italiani che scrissero quell'articolo perché quegli italiani che scrissero quell'articolo sapevano di cosa parlavano erano stati in esilio erano stati in campi di concentramento in Francia erano stati in campi di concentramento in Germania qualcuno era stato anche in Russia qui di solito scherzo dico qualcuno ma il più intelligente di tutti era riuscito a sopravvivere all'hotel Lux di Mosca che era a Palmiro Togliatti mentre molti ci avevano rimesso la vita e avevano capito cosa vuol dire qui c'è Dante naturalmente il pane che sa di sale come sa e così via cioè l'esilio è qualcosa di drammatico e quindi quei costituenti scrissero quell'articolo sapendo che cosa volevano scrivere e l'interpretazione giusta è quella che ho dato io cioè l'asilo deve essere concesso a coloro che non riescono a lavorare e a guadagnare per mantenere la loro famiglia o anche semplicemente loro stessi in regimi che sono autoritari e molto repressivi ok poi adesso leggerisco perché nelle letture l'avevo letto tantissimo tempo fa c'è un libro che a suo tempo fu molto apprezzato che fu famoso scritto per l'appunto qualcuno l'ha detto da Kennedy il libro si intitola profili di coraggio e sono dieci senatori statunitensi Kennedy era senatore era appena diventato senatore e decide di scrivere questo libro qui c'è la storia diventa più complicata e alleggerisce tutto questo poi lo concluderò in maniera diversa perché non è affatto detto che sia stato Kennedy a scrivere quel libro la cosa interessante è che quel libro è molto bello i profili di questi dieci senatori sono naturalmente scritti benissimo cogliendo vari passaggi e vi dico qual è il senso del libro probabilmente è stato scritto da uno dei suoi consiglieri che si chiamava Ted Sorensen più giovane di lui l'autamente pagato naturalmente per ovvie ragioni Kennedy era straricco questa era una persona di 27 anni di grande ingegno ma certamente di poche risorse però il libro è importante per quello che dice che cosa dice esattamente Kennedy del coraggio in politica che cosa vuole che venga detto e quindi che cosa scrive che il coraggio in politica è soprattutto la capacità di ergersi da soli contro l'opinione prevalente a rischio della propria carriera qui siamo a un livello leggermente inferiore perché c'è lamento della carriera ma se Kennedy fosse qui con me mi direbbe ma quello dell'ergersi contro l'opinione prevalente è anche per manifestare una visione diversa del paese se io dico che il coraggio in politica vuole cambiare quel paese quegli uomini quei dieci senatori testimoniavano una visione diversa e suggerivano una una soluzione diversa e naturalmente uno di questi dieci senatori è inevitabilmente Lincoln che fu senatore prima di essere presidente la sua visione di un'America senza lo schiavismo senza la schiavitù qui se fate delle domande rendo più sfumato tutto però certamente Lincoln sapeva che rischiava la vita e infatti l'ha persa di questi è l'unico che perde la vita di quelli descritti nel libro qui c'è questa visione complessiva cioè che coraggio è ergersi contro l'opinione pubblica contro l'opinione dei vostri pari che cosa vuol dire un senatore non erano ancora cento i senatori degli Stati Uniti un senatore che parla contro tutto il Senato quindi che rischia poi di essere escluso da qualsiasi altra attività è certamente un uomo coraggioso ma in nome di cosa parla della sua carriera no in nome di una certa visione di America per così dire di un'America possibile sulla quale poi alcuni successori costruiranno il futuro di quell'America quindi la concezione di Kennedy del coraggio in politica è rischiare la propria carriera rischiare le proprie come dire amicizie e così via pur di affermare un principio generale che vale per il paese questo elemento è importante l'elemento del paese è importante per tutti anche se oggi faremo oggi nel senso che oggi ma non posso definire l'oggio perché il luogo dove bisognerebbe avere coraggio oggi è l'Europa e quindi mi chiedo se posso trovare uomini e donne coraggiosi in Europa che rischiano tutto questo e molto casualmente ho trovato nel Corriere della Sera di oggi credo nel supplemento al Corriere della Sera di oggi la storia di questa deputata laburista Joe Cox la quale viene uccisa perché stava facendo campagna contro la Brexit ecco questo è un caso di coraggio sicuro cioè andava contro opinioni molto diverse opinioni fra l'altro molto settarie molto faziose dei sostenitori della Brexit e sapeva di rischiare la vita e la vita l'ha persa da questo punto di vista qui c'è una visione di un grande paese perché la Gran Bretagna è stato un impero che deve in realtà aderire all'Unione Europea per se stessa ma anche per rendere grande l'Unione Europea sono arrivato alla conclusione e vi offro quello che ho imparato quello che ho imparato da uno dei miei due maestri Norberto Bobbio che era uno straordinario conferenziere molto più colto di me secondo me anche più bravo di me un po' meno istrione era più come se dire si controllava di più però alla fine di alcune conferenze annunciava che era necessario avere quello che lui chiamava un pistolotto bisogna che ci sia un pistolotto finale che quindi in qualche modo suggerisce a chi ha ascoltato il senso intero del discorso e che serve forse per stimolare poi le domande incentualmente volevo dire all'inizio che potevo essere interrotto poi non l'ho detto anche perché poi non vi vedrei perché voi siete siete al buio io di qua non riesco a vedere le mani però mi farà molto piacere se farete delle domande e risponderò a ciascuna domanda il pistolotto è questo che è giusto pretendere dagli uomini e dalle donne in politica che abbiano coraggio pretendere la loro indipendenza la loro capacità di ergersi contro l'opinione comune di ergersi contro verità rivelate che poi magari non sono né verità né rivelate perché sono manipolate è giusto sapere esattamente come la pensano e non vederli traccheggiare posizionarsi laddove c'è maggiore possibilità di sopravvivere in politica e così via questa è una brutta politica quando siamo di fronte a una situazione di questo genere e da questo punto di vista la conclusione potrebbe essere contro la famosa frase che tutti voi ricordate di Bertolt Brecht devo trovarvela però beato il paese il popolo che non ha bisogno di eroi ecco se Brecht fosse qui anche se anche Brecht era spesso era scostante direi invece il contrario beato il popolo che trova gli eroi quando ne ha bisogno ecco il coraggio politica in politica è quello degli eroi che fanno la loro comparsa quando la loro società e la loro politica ne ha bisogno e che sanno di rischiare e che rischiano tutto pur di migliorare la loro società e la loro politica grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti